Ecco l'arrivo di Emirates Team New Zealand, vincitore di questa incredibile decima prova Eccolo qua, vinta, grazie a uno splendido duello Ed ecco il TMIO6 che segue, settima vittoria per Emirates Team New Zealand Seconda, terza anzi per gli americani Nella prima prova di oggi, quindi il punteggio è di 7 a 1 adesso per i Kiwi A due vittorie dalla riconquista dell'America's Cup Stupenda questa decima prova, veramente il massimo che si possa desiderare Molto pubblico vedete l'America's Cup Park Oggi anche molte barche in mare Una partenza vinta dai Kiwi difendendo per un metro l'ingaggio interno alla boa Poi una buona poppa e poi un splendido duello di virate Con i Kiwi che non coprono e si fanno rimontare da un Benesli in grandissima forma Ma i Kiwi non mollano e riescono poi a splittare alla boa di Bolina E a conquistare soprattutto le mura a destra, il primo incrocio utile Ed ecco qua le due barche che sfilano davanti al pubblico dell'America's Cup Park Splendida giornata di Coppa America e di vela qui a San Francisco